Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Animare la parrocchia. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Animare la parrocchia perché noi che siamo in parrocchia e lavoreremo intensamente per renderla una ricca famiglia degna di vitalità e piena di virtù, è unita la scuola del Vangelo che con frasi racchiuse nei proverbi e nei testi sapienziali ci arricchisce la coscienza per vivere meglio in parrocchia, per dare un vivo senso divino e forte. Dobbiamo animare la parrocchia con l'ode, renderla casa di tutti e renderla casa di giustizia, fede e sacralità. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Animare la parrocchia. A voi che siete in parrocchia, lavorate intensamente rendendola una grandiosa e ricca famiglia di sacre virtù e gioiosa vitalità. Seguite le orme del Vangelo, meditate le frasi dei proverbi, dei salmi fatene un vero credo affinché la sacra famiglia sempre regni. Animate la parrocchia con l'ode, rendetela casa per tutti affinché la vostra buona fede vi doni frutti intensi e concreti. La parrocchia è il fulcro dove gira la società credente, rendetela come sacro rifugio per ogni vostro sacro gesto eloquente. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.